Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in pre-communità e oggi siamo qui su PESSE 2017, campionato master Juventus, l'altra partita cioè contro il Bayern l'avevamo persa 1-0 Abbiamo lasciato il segnere, lo so, oggi abbiamo vinto per forza con Cagliari Calcio, quindi ho sistemato la squadra nello scorso episodio Iniziano loro, cerchiamo di vincere ragazzi La squadra avversaria già inizia a giornarsela Corfallo che ho fatto io Buffo Ecco, già attaccato la squadra avversaria Rigore? Cazzo rigore Ma che cazzo ho fatto? Rigore ragazzi Buffon Bravo Buffon Ti amo Ve l'ho detto io ragazzi sono forte a parare rigori Cazzo si è buttato quello Il Wayne si è buttato Buffon Sempre la partita 0-0 Bravo Buffon Sola fatta Dai via testo Goal Sapevo Mi sembra di assistere Alle solite partite che la giurispertevo sempre ragazzi Vi ricordo d'altro Non so quale anno era, forse erano due anni 16 Non mi ricordo neanche io Ecco Vabbè ci abbiamo un secondo tempo Ci abbiamo un secondo tempo 73,78 su 46,44 Allora Non so se posso modificare qualcosa Mi posso modificare qualcosa Cioè faccio entrare il bagno DC Faccio entrare il bagno DC Ok E iniziamo a fare la seconda vita del tempo Spera Babbè ragazzi Mi vorrebbero Volevi No, no, no Ci voglio credere Ci voglio credere Ci voglio credere Cazzo la Juventus che perde Contro il Kaya di calcio vai lì Però Io Pedro L'ha segnato lui Numero 10 Ok 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 Adesso io ho falso L'iccaversato E Ok 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 il dischetto che avete guarda guarda ho fatto lo scambetto perché tira la palla e bello l'altro giocatore eh sì ciao però c'è ste squadre ragazzi io mamma mia nata 2 falli te ciao 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 ma vedete cazzo io scusate le bestezze dai tiè volete vincere voi tiè dai giù ok calcio d'angolo ovviamente ora che c'ho la palla poi è finita la partita ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto, se vi è piaciuto, se vi è piaciuto, sempre iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in prossimo video io cercherò di migliorare questa squadra bella ragazzi Konnichiwa iscriviti al canale ciao 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 ciao